Ben ritrovati a tutti e a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare due simpatiche e utili utilità, scusate il gioco di parole, per il nostro desktop Unity. La domanda di questo video, che sta alla base di questo video, è perché non rendere ancora più confortevole l'uso quotidiano di Unity con queste due interessanti funzionalità aggiuntive. Ecco qua. Allora, rispondiamo a questa domanda presentando queste due utilità appunto. I nomi sono quelli riportati nel titolo, ovvero la prima utilità che vedremo è Unity Launcher Folders e la seconda è Unity Launcher Switcher. Vediamo cosa fanno queste due utilità. Allora, partiamo da Unity Launcher Folder. Dunque, in sostanza, cosa fa? Permette di creare dei cassetti, tra virgolette, virtuali, nei quali raccogliere i lanciatori degli applicativi più usati ed evitare così di intasare il launcher di Unity. Ecco, il launcher di Unity è questa barra, ben conosciuta chi usa Unity, questa barra sulla sinistra. Se usiamo spesso tanti applicativi, ogni icona occupa il suo posto. È vero che con la funzione di zoom, di ridurre o di aumentarne la dimensione, possiamo anche ridurre le dimensioni di questo launcher se ci sono troppe icone. Però, anche se poi sono troppo piccole, queste icone non è poi neanche tanto bello. Ecco, questa è la dimensione standard, per difetto, del launcher. Vedete che già io con alcune icone, almeno nel mio video, che non è grandissimo, inizia già a fare l'effetto fisarmonica il launcher, perché non ci stanno tutte le icone per esteso, vedete? Ecco, quindi può venire utile, appunto, un'utilità di questo tipo, che ci permette di raggruppare sotto un'icona unica, più lanciatori, più icone di applicativi. A dire il vero, diverso tempo fa, avevo già pubblicato sul mio canale, un'altra utilità simile o con lo stesso obiettivo, che si chiamava, se non erro, Drawer o Drawers, che appunto è il termine inglese per cassetti, guarda caso, e che appunto aveva le stesse finalità. Francamente poi non l'ho più né installato, cambiando anche la versione di Ubuntu, passando alla 4.104 non l'ho più reinstallato, non so se sia un progetto ancora vivo o meno, non sono andato a interessarmi prima di registrare questo video, quindi non so dirvelo. Potete sempre interessarvi per conto vostro, cercate Drawers per Unity e si vede se ci sono ancora notizie su quel progetto. Fatto sta che questo praticamente ricalca gli stessi obiettivi e ripresenta lo stesso concetto, di raggruppare sotto un'unica icona, raggruppare altre n icone, uno o più. Particolarità di questo Unity Launcher Folders è che permette di raggruppare sia lanciatori di applicativi, come vedete qui questi singoli, sia per chi usa specificatamente, poi vedremo in questa nota perché dico così, specificatamente Google Chrome, è anche possibile raccogliere dei segnalibri, quindi dei preferiti del vostro browser, che vengono trasformati in scorciatoie per il desktop. Per chi usa Chrome o Chromium sa che possono essere create, tra virgolette, degli applicativi dai siti che si salvano, viene creata un'icona, si fa doppio clic, si apre una finestra dedicata a quel preferito e non tutto il browser normale. Ecco, ma questo è un dettaglio più del browser che non dell'utilità che stiamo presentando in questo momento. Ecco, la nota, dicevo, perché parlo di Google Chrome specificatamente? Perché con l'attuale versione di Unity Launcher Folders, che è la 1.0.3, in questo momento in cui sto registrando il video, vengono create delle scorciatoie proprio prefissate per Google Chrome. Quindi se usate anche Google Chromium, che è il suo fratello quasi gemello, open source, non funzioneranno queste scorciatoie perché vengono create proprio con il percorso come se ci si aspettasse che sul PC è installato proprio Google Chrome. Quindi io ipotizzo che in una prossima, successiva versione di questa utilità, questa, come dire, difetto, limitazione, verrà risolta in modo che, che ne so, che venga cercato il browser per difetto nel sistema o che si possa specificare per quale browser creare le scorciatoie per il desktop. Ecco, non lo so, vedremo, è solo una nota che è giusta e opportuno che vi indichi perché se usate Chromium, questo con l'icona blu, come me, vi trovate con le scorciatoie che non funzionano, magari vi chiedete perché. Ecco il perché. In questo momento è solo per Chrome che funziona questa creazione di scorciatoie nei cassetti di questa utilità. Come si installa? Ecco, questa utilità non ha un archivio PPA dedicato o al momento non ha un archivio PPA dedicato ma si deve andare sul sito dello sviluppatore o degli sviluppatori, del progetto insomma e scaricare proprio il pacchetto Debian, il pacchetto Debb dal sito, è proprio un pacchetto quindi ecco qua, si apre il sito che poi ovviamente vi lascio nella descrizione del video come sempre, qui viene presentato un po' le funzionalità, c'è anche un video per mostrarvi come si usa il contatto insomma, il sito del progetto, Launcher Folders e qui c'è anche un link per scaricare il vostro bel pacchetto. Vedete in basso a sinistra che appare appunto il nome del pacchetto, Unity Launcher Folders 103 ecco perché ho detto che la versione è quella, fate clic e scaricate il vostro pacchetto. Una volta che avete scaricato il vostro pacchetto, vediamo se ce l'ho ancora, eccolo qui scaricato il pacchetto.deb, fate doppio clic e vi si apre Ubuntu Software Center perché l'estensione .deb è legato appunto ai pacchetti software e quindi si apre automaticamente Ubuntu Software Center e poi una volta aperta l'interfaccia appunto di Unity Software Center Ubuntu, accidenti, Ubuntu Software Center scusate, mi sto confondendo con i termini e sulla destra vi apparirà il solito pulsante di installazione o se qualcosa è già installato di disinstallazione. Quindi, niente, fate semplicemente clic lì, vi darà la password e poi installerà appunto questo Unity Launcher Folder. Una volta installato, potete chiudere Ubuntu Software Center perché non vi serve più, aprite la dash per avviare il programma, quindi aprite la dash di Unity e cercate Unity comodamente fra gli applicativi, qua, cercate Unity, vedete che qui avevo già impostato la ricerca, anzi così giusto per completezza scrivo Unity intero e vedete che appare questo pinguino stilizzato su sfondo ocra giallo e con il nome appunto Unity Launcher Folders, questo è il programma che dobbiamo avviare. Una volta avviato qui, vedo che c'è una di troppo, una volta avviato il programma e lo vediamo qui, faccio clic, l'ho messo qui per comodità, vedete Launcher Folder Editor, lo avviate per la prima volta tutto vuoto perché non avete ancora nessun cassetto creato e quindi potete crearvi un nuovo cassetto, ecco il pulsante qui primo a sinistra è per crearvi nuovi cassetti, il secondo pulsante per aprire i cassetti esistenti, nel mio caso ne ho già uno qui che poi l'ho chiamato ufficio, lo vedete, potrei riprenderlo per modificarlo, adeguarlo, il terzo pulsante per salvare il lavoro che ho fatto sul cassetto corrente e Drawer Setting non so cosa permette, vedo che non si apre, Drawer Setting è solo quando ho un cassetto disponibile e questo l'ultimo pulsante sulla destra fa una preview, ovvero un'anteprima del cassetto che state creando, poi lo vediamo rapidamente fra un attimo, quindi se schiaccio il primo pulsante posso creare il mio cassetto che non so, chiamo il solito Pippa, qua posso eventualmente assegnargli un'icona, scelgo un'immagine, posso assegnargli un'icona personalizzata, se no lascio perdere, faccio ok e qui vedete che si presenta come un'interfaccia schede o il mio cassetto Pippa potrei aprire anche altri cassetti come il mio dell'ufficio, dove il pulsante ecco open, tra l'altro qui scusate perché era coperto dalla scaletta, questa finestra di gestione dei cassetti esistenti vi permette di rinunciare a fare operazioni, di aprire un cassetto o di cancellare quello selezionato, in questo caso apro il mio cassetto e vedete che appunto l'interfaccia schede, io ho creato un cassetto Pippa nuovo ma il mio cassetto ufficio, vedete, contiene già delle icone che sono quelle che vedete qui in anteprima, quelle che vedete qui elencate con il tasto destro o quelle che facendo il click col tasto sinistro normale dopo un po', non è così rapido, si ripresenta come il contenuto del nostro cassetto, quindi vedete un'icona sola, un'icona sola sul launcher fissata che contiene cinque icone, quindi risparmia lo spazio di cinque icone, ecco, qui posso con il tasto destro per le singole icone, gestire le proprietà delle singole icone, quindi cambiare il nome del singolo lanciatore, posso personalizzarlo, questo avvia LibreOffice Calc, ho lasciato il nome Calc, potrei chiamarlo anche foglio elettronico volendo, posso cambiarle anche l'icona, posso personalizzare tutto, anche del singolo lanciatore, oltre alle proprietà c'è l'opzione di cancellare un lanciatore, quindi se non lo voglio più, se non mi interessa, faccio delete, lo cancello e vedete anche qui editor di testo, eccetera, eccetera, posso mettere quanti voglio, quante icone voglio, posso raggrupparle in questo mio cassetto, posso, se ho cambiato qualcosa appunto, premo questo pulsante con l'icona di salvataggio per salvare le modifiche, qui ho i drawer setting ovvero le impostazioni per il cassetto, a livello di tutto il cassetto, quindi non di singolo lanciatore contenuto nel cassetto, vedete che posso gestire quanto devono risultare grandi le icone nel cassetto, una volta che lo apro, la scritta, quanto deve essere grande la scritta del nome del lanciatore, quanto deve essere larga lo spazio fra un lanciatore e l'altro, vedete 48 pixel, eccetera, eccetera, e che tipo di cassetto deve essere, quindi striscia orizzontale come quella che abbiamo visto prima quando l'ho aperto, in questo caso ho lasciato striscia orizzontale, vedete che è una striscia orizzontale, li mette uno dopo l'altro, da sinistra verso destra, oppure può essere verticale, oppure una box come una scatola, come un contenitore come qua, ecco, potete scegliere un po' queste cose, e poi ecco, vi ho detto praticamente tutto, salvo l'ultimo pulsante che è quello di fare l'anteprima del cassetto, quindi prima di salvare, di rivediamo se mi piace così, posso schiacciare questo pulsante, elaboro un attimino le informazioni, mi presenta l'anteprima, vedete, che è come quella che si presenta effettivamente quando faccio clic sul cassetto vero e proprio, e questa è l'anteprima, e poi posso tranquillamente chiudere l'utilità, che tanto poi i lanciatori sono organizzati, e in questo momento non devo aver aperto necessariamente il Unity Launcher Folders per che i cassetti funzionino, ma una volta creato il cassetto è un'icona come un'altra, posso anche spostarla, volendo, avete visto che è un po' lento ad aprire, come dire, la visualizzazione grafica del cassetto, ci metto un attimo a presentarlo, diciamo che è più rapido, sicuramente con il tasto destro, ecco, vedete, con il tasto destro è immediato, vi presenta tutti i vostri lanciatori, e in più potete, avete sempre l'opzione di Edit Drawer, ovvero modificare il presente cassetto, quindi senza passare dall'icona del programma principale, potete aprire lo specifico cassetto, se ne avete anche di più, sul launcher, e gestire direttamente il singolo cassetto. Questa era l'utilità del Unity Launcher Folders, quindi dei cassettini. La seconda utilità che vi voglio presentare è Unity Launcher Switcher. Ecco, quando voi avete attivato i desktop virtuali nella vostra Unity, che non necessariamente potete averli attivati, ma se li avete attivati avete questa icona che vi mostra i quattro desktop virtuali per difetto di Unity, li vedete, uno, due, tre, quattro. Ecco, cosa succede con questa seconda utilità? Permette di definire quali icone far apparire sul launcher di Unity, a dipendenza del desktop su quale ci si posiziona. Ecco, in sostanza possiamo stabilire, a seconda di quale desktop stiamo usando, quali icone fare apparire. Quindi possiamo tematizzare i desktop, che ne so, ho scritto anche un esempio qui nella scaletta, possiamo stabilire che il desktop in basso a sinistra, per esempio, che so, questo, il desktop in basso a sinistra, è dedicato all'ufficio. Ecco, quindi metterò delle icone tipo LibreOffice Writer, Calc, l'editor di testo, qualsiasi cosa che abbia a che fare con l'ufficio, che ne so, la contabilità, eccetera, eccetera. E il primo in alto a sinistra, proprio questo che stiamo usando adesso, che ne so, all'interazione in rete, quindi metterò il browser, tutte queste cose, ecco. Quindi possiamo avere i nostri quattro desktop di Unity, ognuno dedicato a un determinato compito e quindi con il launcher qui sulla sinistra personalizzato con le icone che più ci servono per quel compito. Quindi, ecco, che ne so, se faccio gestione di foto, modifiche, mi vado sul mio desktop dedicato e qui mi potrebbero apparire, che ne so, Gimp, Shotwell, tutte queste cose, quando nel primo desktop invece non mi servono e quindi non appariranno. Voilà. Quindi, dimostrazione pratica è sempre la migliore che mille parole, quindi passiamo rapidamente a vedere come si installa al programma e poi vediamo il suo effetto. Questa volta, questa utilità ha già un suo repository PPA, quindi usiamo i consueti comandi di terminale, che sono sempre più spicci per fare questo compito. Quindi, copia e incolla in un terminale di questo primo comando che aggiunge il repository PPA dove si trova questa utilità. Secondo comando, copia e incolla di questo comando, aggiornare il sistema, il vostro sistema Ubuntu, in modo che riconosca il nuovo repository e poi sudo qua apt-get install l-switcher per installare il nuovo programma. Una volta installato, come prima, apriamo la dash e cerchiamo Unity e questa volta c'è quest'altra icona che presenta appunto stilizzati i quattro desktop con quattro colori diversi per mostrare appunto le differenze che possiamo impostare per ognuno. Facciamo partire quel programma lì, che io l'ho già messo qui per comodità, quindi lo facciamo partire e parte questa semplice finestrella. In questa semplice finestrella possiamo gestire praticamente se l'utilità è attiva o meno sul vostro sistema. In realtà quel, come dire, l'utilità vera e propria agisce dietro le quinte, non ha una finestra sua, quella che poi farà tutto il lavoro. Questa piccola interfaccia serve solo per accenderlo, spegnerla con questo interruttore. Vedete, in questo momento è spento. La nostra utilità Unity Launcher Switcher è spento. C'è un'opzione in più che è quella di farlo partire ogni volta che fate ripartire il PC, potete scegliere. Se attivate questa opzione partirà ad ogni riavvio del vostro PC, se no no, in questo caso non partirebbe se riavviasse il PC. E qui sotto c'è un testo ormai in inglese che però descrive appunto cosa serve questa utilità e quello che vi sto spiegando io in sostanza e il suo effetto sul vostro sistema. Ok, lasciamo qui un attimo la nostra bella finestrella dell'utilità, spiegato cosa fa. Quindi c'è l'opzione per attivare lo script alla partenza del PC, ve l'ho già detto. Avviato lo script, posizionarsi su un desktop, personalizzare e iniziare a fissare i lanciatori. Spostandosi su altri desktop si vede che i lanciatori iniziano a differenziarsi. Ok, quindi appunto la dimostrazione pratica di cosa fa questa utilità la vediamo adesso. Allora, in questo momento è spento, abbiamo detto questa utilità è spenta, quindi se osservate quali lanciatori ho sul mio launcher e cambio desktop, vedete che assolutamente non cambia nulla. Vedete, sono sempre quelli i lanciatori, come nella vostra Unity normale che avete avuto finora, ovviamente. Adesso lo attivo, vedete che appare anche una segnalazione, una notifica che adesso è attivo, quindi il programma che gira dietro le quinte sta facendo il suo lavoro. Cambiamo di desktop a questo punto, mi sposto su questo e vedete che sono cambiate le icone. Io le ho già preparato queste differenze prima di iniziare a registrare questo video e vedete che in questo desktop verso destra ho messo un terminale e naturalmente gli applicativi che stanno girando in questo momento, tipo il file manager, il browser, le impostazioni di sistema, gli Unity launcher stesso e il registratore del video che sto registrando adesso, restano sempre sul launcher perché sono attivi i programmi attivi, non sono lì spenti in attesa. Ma vedete che rispetto al primo desktop, adesso mi risposto, avete visto qui in questa zona cosa succede? Sono riapparse due icone e sparita quella del terminale. Mi sposto sul desktop di destra e vedete che spariscono quelle due icone e mi appare questo perché in questo contesto, nella mia organizzazione dei miei desktop virtuali, ho deciso che mi fa comodo avere l'icona del terminale qui a portata di mano e non quelle altre due icone. Mentre se mi sposto qui mi riappaiono le due icone di qua. Vedete che sono differenti, vado in basso, vedete che un'icona è stata sostituita da un'altra, vado sull'ultimo desktop e sono sparite tutte le icone aggiuntive qui. Vedete che sono quattro desktop con quattro lanciatori differenziati, vedete che cambia? Ecco, questo è lo scopo di Unity Launcher Switcher acceso. Ecco, questa finestrella non deve restare necessariamente aperta, una volta che avete attivato il Launcher Switcher potete anche chiuderla che, come ho detto, è dietro le quinte che il programma agisce, il vero programma, quindi vedete che il lanciatore si modifica anche senza aver aperto quel programma. Facendo il tasto destro sull'icona di questo programma, se l'avete sul Launcher, vedete che c'è un'opzione Toggle Unity Launcher Switcher. Vuol dire, è come un interruttore, no, Toggle? Quindi accendi o spegnilo. In questo momento sappiamo che è acceso, se faccio clic qui mi si spegne, se rifaccio clic qui si riaccende, eccetera, eccetera, senza dover necessariamente aprire l'interfaccia grafica del programma. Come ho detto, come si fa a personalizzare appunto il lanciatore? Andiamo magari nell'ultimo, quello con meno icone, questo qua. vengo nella dash e, bah, che ne so, prendo questa icona e la aggiungo. Una qualsiasi, giusto per mostrarvi come si fa. Chiudo la mia dash, adesso in questo desktop, che è quello in basso a destra, ho aggiunto questa icona in più. Se mi sposto sugli altri desktop, vedete che sparisce quell'icona lì, perché è attivo il programma e ha riconosciuto che quell'icona è stata fissata specificatamente su quel desktop. Quindi vedete che si differenzia, poi ecco scusate, dove era sparita? Era qui l'icona. La prima volta che riappare viene messa in cima, però potete riposizionarla. Ecco, ma ho fatto bene a fare un giretto del desktop per mostrarvi cosa succede. Vedete che poi si sposta. Non so se sia un difetto di gioventù di questa utilità, ma vedete che lui mi sposta in cima della mia bella icona. Non so, magari vediamo se la prende così. Ecco, voilà. Se non è proprio in fondo, resta dov'è. Ecco, l'ho aggiunta, però vedete che sono differenti i launcher da un desktop all'altro. Ecco, l'ultima cosa che vi devo dire prima dei soliti riferimenti qui in rete, che vi lascio nella descrizione, è che quando lo spegniamo, eh, lo switcher, lui tiene buono la versione di launcher sulla quale siete posizionati in questo momento, ovvero se spegnessi l'utilità adesso, avrei su tutti i desktop queste icone qua. Torno sul mio desktop principale, cioè il primo in alto a sinistra, faccio il famoso toggle di cui ho parlato prima, quindi spengo, vedete, la notifica mi dice che adesso è stoppet, è spento questa utilità, e se mi sposto da un desktop all'altro, vedete che le icone sono mantenute come quelle del desktop, del desktop accidenti, scioglilingue, del desktop sul quale ho spento l'utilità. Lo riaccendo, adesso mi dice is running, vedete qui, in alto la notifica, e giro di nuovo nei desktop e vedete che sono di nuovo differenziati. Quindi se voi lo lasciate acceso, dietro le quinte, è un programma che occupa poco spazio, poca memoria, agisce tranquillo, silenziosamente, e avete i vostri desktop personalizzati. Voilà, con questo ho chiuso questo video, direi, eh, sì, ho detto tutto, e vi mando un bel saluto, ciao ciao, e vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao!